Musica 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 Sono Alessandro, affiliato della catena i droni di erba in provincia di Mastro. Musica La ferra dell'elettronica di erba. Stiamo qui a esporre oggi tutto quello che concerne il mondo dei droni, soprattutto sui service, in collaborazione con la scuola Milano-Mongolfiere. Abbiamo un po' di ultime novità dei droni, il famosissimo Mavic, così richiesto che finalmente siamo riusciti a recuperarne qualche pezzo. Avevamo qua ieri dei Droni Ventures, cioè il nostro drone da fotogrammetria, che purtroppo oggi aveva un service da fare, quindi è dovuto scappare in volo. Passate a trovarci in negozio perché noi possiamo fare anche finanziamenti, sia per privati che per professionisti. Abbiamo una promozione con Compass per i privati con finanziamenti con la prima rata tra 90 giorni Abbiamo un po' di tutto Oltre che la vendita, ripeto, per quanto riguarda i servizi La raccogliamo per fare gli attestati, certificazioni, assicurazioni C'è tanta curiosità nel mondo dei droni che si sa benissimo che è la novità del momento Infatti a me interessa molto il Mavic Pro Il piccolo Mavic Pro è così rinomato perché è pieghevole Quindi tutti lo vogliono perché ha le caratteristiche quasi di un Phantom 4 Quindi quei sensori anti collisione frontali Sensori IPS sotto che gli permettono di volare e di avere un'ottima stabilità indoor dove il GPS non funziona Fa foto e video di una qualità veramente alta Invece qua puoi vedere il Phantom 4 Pro Plus Che è l'evoluzione del Phantom 4 Pro Con il sensore su tutti e quattro i lati La camera da 20 megapixel e il monitor nel telecomando Venite a trovarci perché dureranno ben poco Perché arrivano con il contagocce Tu chi sei anche se so chi sei però Sì, io sono Miriani Roberto Insieme con Anita la presentiamo alla scuola di volo certificata ENAC Milano-Mongolfiere per i droni In quanto tendiamo a precisare che il brevetto droni serve solo ed esclusivamente per un fatto commerciale Cioè chi vuole guadagnare e lavorare con i droni deve fare per forza il brevetto di droni Musica Musica Grazie a tutti.